Una vera pioniera della fotografia di strada, Hilde Lotzbauer ha fotografato l'Italia negli anni 30 facendo arrivare fino a noi immagini uniche della vita della gente comune, dei luoghi e dei tesori artistici italiani. Hilde Lotzbauer sviluppò un personale ed originale sguardo artistico durante il suo primo soggiorno in Italia. Come mise piede sulla penisola se ne innamorò perdutamente. Roma in particolare fu un luogo fondamentale per Hilde, vissuto e sentito fino alla fine come la sua vera casa. La fotografa percorse quasi tutta l'Italia da nord a sud muovendosi tra la gente con la sua piccola leica portatile catturando la vita delle città così come delle zone rurali più isolate, cogliendo quasi senza farsi notare l'umanità tutta che abitava in questi territori degli anni del ventennio fascista. In occasione di questa esposizione si presenta l'opera complessiva realizzata nel decennio 34-43 mettendo in luce e a dialogo per la prima volta i due maggiori aspetti della sua produzione, le commissioni per gli storici dell'arte e la fotografia di reportage, lo sguardo di storica dell'arte e quello di fotografa. Grazie a tutti.